Broccoli, broccoletti, cavoli, queste piante hanno un parassita micidiale che è proprio di questo periodo, la cavolaia. Il segreto per prevenire l'attacco della cavolaia e non usare nessun prodotto è bloccarla, quindi non farla passare. Quindi vi consiglio di comprare una rete per gli uccelli. Questa rete la vendono in commercio per evitare che gli uccelli vadano a mangiare le insalate, spesso accade così. Però ho testato la sua efficacia contro le farfalle, perché comunque la rete ha dei quadratini che sono della dimensione sufficiente per non far passare una farfalla.